Ciao, sono Giallo Caglionetto, il fondatore di Bici Protetto. Un video al volo per rispondere a una domanda che mi fanno un sacco di persone. Che computer devo comprare? Quando compro un computer, che computer devo comprare? Allora, quello che dico sempre è vai da MediaWorld, vai da Auronics, vai in un centro commerciale, evita i negoziati di informatica, perché ci fanno una cresta allucinante. E stai su un computer che vada dalle 399€, che di solito sono questi i prezzi, dai 399€ ai 699€. Quindi, un computer che costa sui 500€, 550€, già è un computer di fascia media, che va benissimo se non devi fare cose allucinanti, Photoshop o editing video o audio. Quindi, centro commerciale, io scelgo sempre MediaWorld o Auronics, stai su un computer dai 390€, ad esempio qua c'è un computer, ad esempio 599€, un computer 4GB di RAM, processore i7, quindi 15 pollici e 6, è il medio, ci puoi fare qualsiasi cosa. Se invece sei uno smanettone di video, uno smanettone di programmi video, che devi fare video, devi fare fotografia, quindi Photoshop e ritocchi, una media si alza dai passi dai 699€ ai 799€, ad esempio qua c'è un 799€ con sempre processore i7, 8GB di RAM, va benissimo. Vai in un centro commerciale, fascia dai 599€ ai 799€ e sei sicuro di prendere un computer ottimo. Evita i negozietti privati. Io purtroppo non faccio rivendita, anzi purtroppo, fortunatamente non faccio rivendita perché non mi interessa, quindi centro commerciale e sei a posto. Ciao, al prossimo video. Ciao, al prossimo video.